Non riesce a vincere il duello fisico, pallone nello spazio, può colpire, super la linea, gol! Sta iniziando a diventare doloroso da vedere, la squadra in svantaggio sembra impotente e la difesa non sa che pesci prendere. Mi permetto Fabio di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una scompita così sonora.